In la prefettura d'Agrigento, su iniziativa del prefetto, Maria Rita Cociufa, un confronto pubblico al mattino di oggi sulla gestione e le prospettive future dell'AICA, l'azienda idrica dei comuni agrigentini. Avevamo chiesto un bando pubblico, l'ho detto poco fa, nell'assegnazione delle varie cariche ai membri del CDA e questo non è stato fatto. È nella prerogativa della politica fare in questo modo, ma è anche nella prerogativa del cittadino e delle varie associazioni poter dire che non si è d'accordo con questo modo di gestire la cosa pubblica, perché non dimentichiamo che l'acqua è un bene pubblico e va amministrato nel modo più trasparente possibile, anche nelle scelte di chi deve mandare avanti questo benedetto apparato. Vogliamo continuare a essere coscienti che ci sia la buona fede di tutti per non entrare a gambatesa da parte di pezzi della politica, che piuttosto che privilegiare la qualità del servizio attraverso gli uomini che vengono designati, invece si possa tornare indietro con l'ennesimo fallimento di un servizio pubblico. La nomina del CDA è una competenza dei sindaci ed è corretto che sia una competenza politica perché così è istituzionalmente e quindi diciamo che sulle loro scelte, che sono ovviamente loro, devono rispondere loro. Sulla gestione io ho fatto un documento di sintesi che ora divulgherò su quello che ho fatto sia come commissario sia diciamo qualche commento generale, è chiaro che ai problemi ne ha tanti, è sulla buona strada perché in due anni si è fatto una marea di lavoro, se ne deve fare ancora tanto. Bisogna dare l'indirizzo giusto che è quello di dare all'azienda soprattutto un vero piano industriale. Un piano industriale significa dimensionare strutture, dimensionare costi per risorse e attrezzature. Io ho ritenuto di fare questo incontro intanto nel rispetto delle decisioni che sono state prese dall'azienda soprattutto per cercare di mettere in contatto azienda e tutte queste componenti della società civile che da tanto tempo seguono le vicende legate all'acqua. Quindi è un modo anche di coinvolgere la comunità perché non è un problema, non è il problema sindacare quello che fa l'AICA, il problema è intanto anche di essere messi a conoscenza di quelle che sono le decisioni, che sono decisioni complesse, difficili. L'azienda certamente è partita con mille difficoltà però bisogna anche dare atto che si sta attivando e attuando un percorso quindi è importante che ci sia questo collegamento e questo confronto. E d'altra parte anche questi movimenti, gruppi, il cartello sociale, la consulta svolgono il loro ruolo che dovrebbe essere un ruolo in qualche modo non tanto di controllo ma quanto un po' di verifica costante, continua, possibilmente scevra da condizionamenti di natura diversa se non quello di mirare al bene pubblico che è l'acqua ed è un bene assolutamente essenziale per i cittadini. Questo è l'obiettivo dell'incontro di oggi.